Il Signore ci offre la consolazione della fecondità, quella capace di dare la vita per gli altri, e non la consolazione del tepore, che non serve a nulla. Nella consueta messa del mattino, Papa Francesco ha nuovamente messo in guardia da quei cristiani tiepidi, da quelle comunità che si sentono tranquille e risultano inamidate e senza consistenza. Quando tutto è tranquillo, infatti, lì non c'è Dio. Non c'è l'attenzione verso il prossimo, la capacità di riconoscersi nudi e incapaci di distinguere i suoni, come la voce del Signore che ci invita a uscire dalle nostre convinzioni per scoprire la vera ricchezza. Non quella ricchezza dell'anima che tu credi di avere perché sei buono, fai tutte le cose bene, tutto tranquillo. Un'altra ricchezza, quella che viene di Dio, che sempre porta una croce, sempre porta tempesta. sempre porta qualche intranquillità nell'anima. E ti consiglio di comprare abiti bianchi, perversirti, perché non appaia la tua vergognosa nudità. I tiepidi non si accorgono di essere nudi. Come la favola del re nudo, che un bambino era a dirgli, ma il re è nudo. I tiepidi sono nudi. I tiepidi non si accorgono di essere nudi. I tiepidi non si accorgono di essere nudi. I tiepidi non si accorgono di essere nudi. Grazie a tutti.